Questa è la notte di Valpurga. E' la notte del demonio, di Nosferatu. Perché questa è la notte di Valpurga. Questa è la notte del demonio, di Nosferatu. Questa è la notte di Valpurga. E' la notte del demonio, di Nosferatu. Sono spiacente, ma c'è una carrozza che mi attende al passo Borgo a mezzanotte. Al passo Borgo? Sì. La carrozza di chi? Del conte Dracula. Sono spiacente, ma c'è una carrozza che mi attende al passo Borgo a mezzanotte. Al passo Borgo? Sì. La carrozza di chi? Del conte Dracula. Sono spiacente, ma c'è una carrozza che mi attende al passo Borgo a mezzanotte. Al passo Borgo? La carrozza di chi? Del conte Dracula. Il ragno sta tessendo la tela per la prossima mosca incauta. Il sangue è la vita, signor Renfield. Il ragno sta tessendo la tela per qualche incauta mosca. Il sangue è la vita, signor Renfield. E lei non beve? Non bevo mai vino. E lei non beve? Non bevo mai vino. E lei non beve? Non bevo mai vino. Van Helsing. Un emerito, un grande scienziato, il cui nome è noto persino da noi in Transilvania. Van Helsing. Un emerito, un grande scienziato, il cui nome è noto persino da noi in Transilvania. Van Helsing. Un emerito, un grande scienziato, il cui nome è noto persino da noi in Transilvania. Lei crede di sfuggirci, Dracula? Noi sappiamo come salvare l'anima di Miss Mina se non anche la sua vita. Se essa morirà di giorno, ma io farò in modo che muoio di notte. E io provvederò a che l'abbazia di Carfax sia battuta pietra per pietra. Le farò sterrare un miglio intorno. Troveremo la sua cassa con la terra e le conficherò un paletto nel cuore. Lei pensa di poterci sfuggire, Dracula? Noi sappiamo come salvare l'anima di Miss Mina se non anche la sua vita. Solo se Mina morirà di giorno. Ma io farò in modo che muoia di notte. E io provvederò a che l'abbazia di Carfax sia battuta pietra per pietra. E farò scavare per un miglio intorno. E troveremo la sua cassa. E a quel punto le conficherò un paletto nel cuore. Lei crede di sfuggirci, Dracula? Noi sappiamo come salvare l'anima di Miss Mina se non anche la sua vita. Se dovesse morire di giorno. Ma io farò in modo che muoia di notte. E io provvederò che l'abbazia di Carfax sia battuta pietra per pietra. E farò sterrare un miglio intorno. Troveremo la sua cassa con la terra e le conficherò un paletto nel cuore.